Questa poesia è dedicata dal poeta Eugenio Montale ad una donna di nome Clizia che viveva lontano. Clizia, la donna della luce, è vista come il girasole che tende alla luce. Nel cuore di tutte le cose c'è un'ansia di luce. Come il girasole, anche l'anima del creato è assettata di luce. Ma il girasole sarà traplantato in un terreno riarso dal vento salmastro del mare, che rappresenta la difficoltà dell'esistenza. Il motivo principale della poesia è tra due condizioni opposte, la gioia e il dolore di vivere. Portami il girasole che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino e mostri tutti il giorno, agli azzurri specchianti del cielo, l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure. Si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musica. Svanire dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianda che conduce, dove sorgono bionde trasparenze, e evapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce. Grazie.